Salve ragazzi bentornati sul canale! Sono vicino alla mia farm di esperienza che effettivamente funziona dai un po' lentina però non ci lamentiamo Ho fatto un po' di livelli, fondamentalmente sono esattamente dove ero rimasto nell'ultimo video Allora che cosa voglio fare in questo episodio? Questo episodio lo voglio fare un po' sciallo, cioè sciallo nel senso che mi ci voglio proprio rilassare Ho pensato, a parte che abbiamo 34 livelli quindi sicuramente proveremo a fare un piccone decente, questa è una cosa ovvia Poi volevo fare un po' di modifiche nella mia base, vorrei iniziare a occuparmi un po' dell'arredamento, dello stile Sai, perché per ora, sì abbiamo fatto il magazzino ma fondamentalmente viviamo in un buco, ok? Quindi è il caso di aggiustarlo, qua c'è ancora questi alberelli maledetti che spuntano così allegri Quindi sfasciamo tutto e penso che iniziamo a preoccuparci un po' dell'aspetto visivo Ma è giorno, è notte? No, è giorno Allora che cosa posso fare qua? Dobbiamo passare un po' di cose sicuramente Quindi andiamo a toglierci dalle balle questi che mi li ero portati Ce la faccio a buttarli dentro? Ok E la prima cosa da fare, io sono troppo curioso, devo vedere che cosa mi esce se mi faccio un diamant piccone incantato Allora, questo già ce l'ho, ne facciamo un altro ovviamente Perché mi piacerebbe avere degli attrezzi decenti, ma non tanto l'armatura, ma gli attrezzi li vorrei tanto decenti Allora, quindi andiamo qua Ah, un'altra cosa poi, stavo pensando forse invece di questi slab che mi allungano tantissimo le cose Perché chiaramente mettendo lo slab la pendenza diminuisce Eh, però diminuendo la pendenza io devo scavare per mettere da tutte le parti Invece con i gradini aumenta la pendenza, però almeno lo spazio ce l'ho Quindi non lo so, probabilmente eliminerò sti slab e metterò dei gradini È tutto da vedere Allora, signori, siamo qua vicino al nostro bellissimo, meraviglioso direi, Enchanting Table E quindi iniziamo a vedere questo che cosa mi direbbe Efficiency 4 Allora, ora, io gradirei tantissimo che tu mi dessi anche un unbreaking Mi avrà dato un unbreaking? No vabbè, e questo è culo potentissimo Cioè, io voglio dire, ma quando mai vi è capitato? Cioè, efficiency 4, unbreaking 3, fortuna Ci vuole mending su questo coso Questo non è un piccone, questa è una figata Ma efficiency a quanto arrivava? A 5 mi pare Però, oh, cazzarola Voglio dire, fortuna 3, fortuna 3 è il massimo Unbreaking 3 è il massimo Poteva essere un efficiency 5, però vabbè, non ci lamentiamo Comunque, con sto piccone possiamo fare quello che ci pare E a sto punto io cos'altro potrei provare ad incantare? Mmm, non lo so Sono indeciso se provare ad incantare una spada o un pezzo dell'armatura Mmm, non lo so Però la spada mi ispira di più Mi triggera di più la spada L'armatura me la voglio conservare per ultima Perché poi sono un sacco di pezzi Deve avere molta più esperienza E non c'ho voglia modo di andarmi a far mai esperienza Però la spada ci possiamo provare Signori, attenzione, ma sto piccone comunque è fichissimo Cioè, in una botta Ma come si fa? Bellissima sta cosa Sembra quasi che il gioco abbia capito Che dovevo picconare un po' di roba Ha detto, vabbè, mo ce lo do sto piccone Così non mi rompe più le palle Allora, vediamo un po' Smite Sweeping Age 3 Vabbè, buttiamoci lì Vediamo un po' che ci sta Vabbè Oh, Sharpness 3 Sweeping Age 3 Voglio dire È una bella spadina, eh Attenzione Attenzione Questa fa un botto di danno Sei d'attacco Insomma, non ci possiamo lamentare Comunque Cosa faremo in questo episodio? Diverse cose Quindi preparatevi con molta calma Ma faremo diverse cose Vorrei farvi vedere dall'alto Aspetta un attimo Che l'ultima volta che ho detto Vorrei farvi vedere dall'alto Sono morto malissimo Intanto, leviamoci le cose buone Non si sa mai Lo so Che se muoio casco sempre dove sto Però Che ne sai? Un Creeper Magari muori Caschi C'è un Creeper Esplode La roba che hai perso È meglio evitare Allora, saliamo un attimino Quassù E vediamo il da farsi Allora Sbirciamo intorno Per vedere Ci sono nemici Non c'è nessuno Cosa dobbiamo fare? Metto un attimino qua Che è più carino Allora, io voglio Terraformare un attimino meglio Questa zona Magari dandogli una forma circolare Per fare questa famosa Piazzetta Che avevamo detto Come blocchi Non ho idea Però non ci lascio La pietra Perché mi fa schifo Si sta facendo buio Ok Poi vorrei aggiustare La zona dell'enchanting Che fa schifo Provare quello che ho detto prima Con i gradini Invece degli slab E iniziare a fare L'ingresso Della miniera Che è anche la farm Di scheletri Ok Mi sto terrorizzando Di stare qua Buttiamoci Allora, vi spiego C'è un motivo Per tutto questo Praticamente Il motivo è che Avevo La sigletta elettronica In mano E quindi Non sono riuscito A premere Lo spazio Bene Mentre scendevo E sono morto Questa ma Sono meritata Vabbè Non è un problema Però Lo sapevo che ci sarei morto In un modo o nell'altro Ma non è un problema Prendiamoci le nostre cose E che so che voi state ridendo Malissimo Ok Ma fate anche bene A ridere Cioè Riderei anche io A posto vostro Per carità Ma questo è proprio E' un po' di incoglionito Effettivamente Sì Effettivamente Sì ragazzi Però stavolta Almeno la spiegazione C'era Ok Ho preso tutto Penso di sì Va bene E questa morte È un motivo in più Per non metterci A incantare L'armatura Ovviamente Perché mi devo Di fare 30 livelli di esperienza E non c'ho voglia Allora Intanto inizierei Distruggendo Non ho un'ascia Ce l'ho Dell'altro ferro Sì ce l'ho Dell'altro ferro Iniziamo distruggendo Questi alberelli E cercando di fare Qualcosa di sensato Intanto dormiamo pure Questa roba La poso qua Il quarzo L'ho messo Dove sta la redstone Perché Mi interessa Che stia lì Il legno Lo posiamo qua Gli oggetti Eh vedi che è molto più comodo Quando c'hai Un magazzino Fatto in modo Più o meno decente Più o meno decente Diciamo così Questo nautilus Che cazzo la serviva Non è stata la crafting tipo Io devo Devo capire Perché in teoria Mi si è sbloccato adesso L'incantamento Allora vediamo un po' Qua non c'è nulla Che mi ricordi Il nautilus Questo qua Questo è un pennello Vedi che hanno attivato Quella roba Sì dovrebbero Aver attivato Cos'è L'archeologia Con questo Spennellavi cose Vabbè Questo lo spy class Lo sappiamo tutti O avendo attivato Le funzioni sperimentali C'ho il bundle Ragazzi Questa cosa qua L'avevano rilasciata Non mi ricordo più In quale versione In uno snapshot Mi pare Poi l'hanno tolta E non era più spuntata Mo con le funzioni sperimentali Mi hanno dato pure il bundle Che è il suo sacchetto Che ci puoi mettere dentro roba Carino Niente di sconvolgente Però Oh putaci sopra Questi sono tutti Cos'è sto coso? Una Ciselle Bookshelf Che cos'è? Questa è da vedere Penso sia una libreria Dove ci puoi mettere i libri In teoria Figo Poi cos'altro ci sta di carino Questa roba la conosciamo già Non ci interessa Oh è questo L'ho visto Dovrebbe essere un attrezzo Che ti permette di fare Delle armature personalizzate In teoria solamente estetiche Dovrebbe essere le modifiche Non è che te la potenzia Però è molto figo Ce ne stanno un botto Non so quanti Però ho visto Che ce ne stanno un botto Cos'altro c'è di interessante Vabbè Flash in table Insomma Anche se l'hanno attivata O se già l'hanno attivata Non mi ricordo Qua non vedo niente di nuovo Vediamo qua Se c'è qualcosa di nuovo Nulla di qua Oh questa è l'hanno Che dobbiamo fare Per mettere il libro Crafter Che c'è il crafter adesso Crafter Che cos'è il crafter C'ho un nome bellissimo però Crafter Come si fa il crafter Un dropper C'ho il dropper Come si fa il dropper Tu sei un dropper Che cosa sei No tu sei un dispenser Dammi un dropper Un dropper Oh devo vedere sto coso Che cos'è Crafter Non lo so Ma il nome mi ispira tantissimo Serve questo Serve della redstone La possiamo Ho ancora problemi con il mouse Cioè il mouse è buonissimo Se io mi devo abituare Perché in ufficio ce n'ho uno Che è sempre verticale Ma è un po' diverso A casa ce n'ho un altro E mi sto ad incoglioni Comunque il crafter L'abbiamo fatto Dov'è che stava quella lì? Qua mi servono 5 lingotti Una crafting table E due disti cosi Vabbè Tutta roba fattibilissima C'era già una crafting table No Ce la facciamo subito 1,2,3,4,5 Non mi ricordo 4 Sì E facciamoci la crafting table Così Ottimo Prendiamoci Due lingottini No erano 5 Ma mi prendo tutti Signori Vediamo un po' Che cos'è sto coso Un crafter Ok Mettiamolo qua È una crafting table È una crafting table normale Di slot disabilitati No aspetta Aspetta Forse ho capito che cos'è Forse è una reminescenza Di quello che potrebbe essere Non me lo dite Non ci sto credendo Mi sto emozionando Il crafter Se è quello che dico io È la fine Cioè tu mi stai dicendo Che se io Ciò l'ho una leva Qualcosa che assomiglia Porca zozza Senti Vabbè facciamo così Chi se ne frega Cioè se è quello che penso io Dovrebbe essere Magari mi sbaglio Però mi ricordo Che si parlava Di una sorta di crafting table Che ti buttava fuori la roba Con un segnale di redstone Sei tu? No è lei Signori Non ci sto credendo Questa è una crafting table No vabbè Cioè possiamo automatizzare cose No ma questa è una cosa Che rivoluziona tutto No vabbè Cioè ma voi vi rendete conto Di questo che vuol dire Che noi possiamo fare Delle farm Che automaticamente Ci producono il risultato finale No sono sconvolto Questa cosa è bellissima Questa cosa va messa Da qualche parte Non so dove Non lo so infatti Però da qualche parte Ma questa è bellissima Allora io ti metto un attimino Quassù Così tanto Eppure è bello da vedere Che figata Non ci sto credendo Cioè io posso fare Che ne so Una farm di Dico una stronzata Una farm di spade Faccio tutto un sistema Di tramogge Che ci fa Fino una roba dentro Perché ovviamente Funziona con le tramogge Vero Non è che è una sola Aspetta 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 Che qua Forse ho cantato Vittoria troppo presto C'era una tramoggia Vedete che non funziona Qua tramoggia È solo una sola In fase sperimentale C'ho altri lingotti Sì ce li ho Eh Raga Devo buttarsi I lingotti Per fare una tramoggia Non me ne frega niente C'ho una cesta Almeno così mi risparmio Non c'ho una cesta Va bene Non è un problema Allora intanto Qua se faccio qualcosa Del genere Non la posso usare Come una crafting table normale Vedete che è disattivata Sta cosa Ci sto per rimanere malissimo Aspettate 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 Non dite nulla Facciamo un attimino così Ta 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 Ok Tu sei un hopper Io adesso ti voglio mettere Quassù E dentro Ti butto questo Ok funziona E non fa un cacchio Giustamente non fa un cacchio Perché questo non è il crafting Però io prima ho visto Che facevo una cosa Bellissima Enable disable Quindi se io faccio così Dovrebbero uscermi fornaci Attenzioni No vabbè È bellissima E immagino Sto andando per deduzione ragazzi Allora immagino che Dovrebbe mettere un segnale di redson Questa cosa Perché giustamente come faccio A capire quando ha fatto Quello che deve fare Vediamo Vediamo se è vero Vediamo se è così Levati un attimo dalle balle Tu per favore Fammi mettere sto coso per terra Ce la faccio L'ho messo Allora intanto facciamo la prova Con la redstone Vediamo Allora questo è uno Va bene Tac Tac Si spegne Si accende Ok quindi quando arriva Quando arriva a una lunghezza di 9 Vuol dire che ha fatto Quello che deve fare È per forza così Quindi se io faccio così Allora Sto a fare una prova proprio 1,2,3,4,5,6,7,8 E tutto Porca zozza Aspetta 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 Allora 1,2,3,4,5 5 Fammi la mettere qua 6,7 E dai Non voglio usare un repeater Che palle Forse però è il caso di mettere delle torce Mi sto casando troppo Poi mi spawnano i creeper 1,2,3,4,5,6,7,8 E il 9 Non ci arrivo Magari è il letto che rompe le balle Vabbè Aspettate Mo lo faccio Non voi preoccupate Rompiamo un attimo il letto Mettiamolo qua Dormiamoci Fissiamolo il punto di spawn Vediamo se ci riesco Allora 1,2,3,4,5,6,7,8 7,8 Non va bene Mi serve da 9 Non lo posso fare da 9 In qualche modo malato Ok l'ho fatto Perché sono 9 blocchi dopo questo Quindi adesso Io l'ho messo a 9 E lui arriva qua Se spengo qualcosa Ok Perfetto Quindi se io volessi fare In questo momento Vediamo Degli slab In teoria dovrei fare così Anzi io voglio fare dei gradini Ok Quindi noi per fare i gradini I gradini I gradini si fanno in questo modo Così Quindi quello che devo fare È bloccare questi due Questi tre Quindi faccio così Butto questi qua dentro Funziona Non ci sto credendo No vabbè Ragazzi No Funziona È come ho detto io Quindi man mano che si riempiono gli slot La redstone sale E questo mi sputa fuori Vabbè Ma allora Ma di che cosa stiamo parlando qua Ma cioè No questo cambia tutto Questo cambia completamente tutto Bellissimo Bellissimo Ora lo sfasciamo Perché non c'ho nessuna farm Adesso in mente da fare Quindi va bene Però Signori Voglio dire Con questo secondo me Hanno raggiunto il top Cioè Mojang Bravissima Bravissimi Bravissimi tutti Veramente Una figata Ok Abbiamo il crafter Mamma mia Sto a pensare un sacco De cose che si possono fare Con sto coso È allucinante Rompiamo un attimino Sti alberelli E iniziamo a vedere Come funziona Il nostro bellissimo picconazzo Con fortuna 3 Efficiency 4 E unbreaking 3 Tanta roba Allora intanto Come pavimentazione Io ho pensato Visto che non è che Ciò chissà Quanti blocchi Super mega fantastici Potrei iniziare Facendo qualcosa Del tipo Non lo so Dei brick normali Tutto nero No Non mi pare il caso Di fare tutto nero Però intanto Possiamo iniziare A mettere dei mattoni Nel mentre Che aspettiamo Di prendere altri blocchi Perché poi Non so Quanti altri blocchi Ci sono Vediamo un po' Se qua ci dice qualcosa Allora Si potrebbero fare Con degli stone bricks Che voglio dire Vanno sempre bene Lo sappiamo Gli smooth stone slab No Mi fanno proprio schifo Della stone normale No Il polish tuff Il tuffo Non lo so Un coble deep slate slab No Allora Secondo me Per iniziare Facciamo Di stone brick Tanto lo stone brick Come si faceva Con la stone Quindi devo cuocere La roba Che palle Allora Mettiamo a cuocere Un po' di queste cose Che poi ovviamente Devo anche riempire Perché qua Non ho Carbone Facciamo così Facciamo così Vabbè Usiamo pure questo Scusa Ce l'abbiamo Ok Con questo carbone Me lo devo dividere Purtroppo Non c'è ancora Una farm di kelp O altra roba La farm di bambù Dobbiamo provare a vedere Quanto è conveniente Usare il bambù I slab di bambù Non mi ricordo Qualcuno di voi Me l'ha detto Ce l'ho scritto sul libro Poi andiamo a leggere E niente Il carbone L'ho finito Signore Attenzione Però non è un problema Perché adesso C'abbiamo il piccone magico Chi se ne frega Vedi basta che troviamo un po' di carbone E siamo a posto Questi me li prendo Questi li metto qua Vabbè Dobbiamo aspettare un po' Intanto libero la zona Che poi libero la zona Fino a un certo punto Perché voglio dire Nel mentre che aspettiamo Che questo cuoce Possiamo andare a provare Il nostro piccone Mi basterebbe trovare Una piccola venetta di carbone E vedere che succede Secondo me È una cosa che possiamo Tranquillamente fare Anzi Vi dirò di più Vi dirò di più A che altezza si trova il carbone Dove l'ho messo quel libro Non lo so Non mi ricordo Vediamo se a vista Becchiamo un po' di carbone Perché io mi ricordo Che l'avevo visto tantissimo Se no possiamo andare a vedere qua sotto Dove sta la mia miniera magica Qua Vediamo se qua troviamo del carbone Lo so che sto usando il piccone Con fortuna Per far sta roba Però Mettiamoci le torce Nell'altra mano Così Tanto è giusto per arrivare A beccare un po' di carbone Tanto questo c'è un breaking Qua ci fa mending Ma matematico Proprio come l'oro Signore Attenzione Quindi Voglio dire Dobbiamo andare anche a cercare Dei villager Assolutamente Ce l'ho una pala Sì Perché non ho mai la pala Nel posto giusto Quando serve Non lo so Perché hanno inventato La gravel in questo cazzarola Di gioco Non so nemmeno questo Io la schifo La gravel Allora Vabbè Facciamo così Guarda Sono troppo precipitoso Ecco fatto Abbiamo tolto La grave dalle palle Allora Mi servirebbe Sto cercando solo Un po' di carbone Posso avere un po' di carbone Velocemente Velocemente Io devo stare attento Con le torce Che nel nether Così sono morto Per mettere una torcia Il buco per terra E che palle Però eh Signore Attenzione Non male che funziona Ancora sto fatto Della torcia Che sfascia tutto Blocco più potente Di minecraft La torcia Ma no Che bello Avere un piccone decente Guarda Guarda come scava Cioè Si rompe tutto Una belle Però non c'è un cazzo In questo buco Voglio dire Cioè A parte tutto Vabbè il piccone Con fortuna Però Fammi vedere Sta fortuna Oh che bello Ho beccato un sacco Nove Eh funziona bene Sto cosa di fortuna Però eh Non so che cosa Farmene con tutta Sta roba Non volevo Il rame Sinceramente Allora Vorrei del carbone È possibile È chiedere troppo Un po' di carbone Ho dei diamanti A seconda Cioè Se non trovo i carboni Mi vanno bene i diamanti Vabbè che qua sto Altezza ferro Ma anche il ferro Non mi farebbe schifo In questo momento No il gioco Ha deciso Che non mi fa trovare Assolutamente un cazzo Di niente Cioè Questa è la cruda realtà Purtroppo minecraft È un gioco Crudele Malvagio È destinato A poche persone Perché Voglio dire La maggior parte Dele persone Sclerano Sfasciano il computer Prendono anche un po' Carci la tastiera Che secondo me Fanno bene E smettono di giocare A minecraft Io Non smetterò Di giocare a minecraft Ma tutto il resto Probabilmente lo farò Se adesso Non mi danno Qualcosa Niente Non ci sto credendo Ma Cioè Mi stai perculando Ragazzo Mi dai il piccone Con fortuna 3 A prima botta E poi non mi dai niente Per usarlo Chi ci sta qua Un mosso che mi ucciderà Non c'è nessuno Sento chiaramente Sento chiaramente dell'acqua Il che Non so se è una cosa buona Sinceramente Per quello che voglio fare io adesso Volevo solo un po' di carbone io Un piccolissimo pezzettino Schifoso di carbone È vero che sto all'altezza del ferro È vero anche questo Però manco il ferro Mi sta da Ma in che cazzo di bioma sto Sunflower plane I biomi più stupidi Li ho trovati tutti quanti io So spuntato Non so spuntato Ho scelto di mia spontanea volontà Un posto Che si trova Con quegli alberelli rosa Che sicuramente sarà un bioma particolare Che non so come si chiama E spostandomi c'è questo Dei fiorellini verdi Ma cos'è oro? Sì ciao Vabbè niente C'ho le visioni tantissimo proprio Ancora sto cacchio di rame Prima o poi lo userò sto rame Cioè con tutto quello che ne sto a trovare Voglio dire anche se non lo vuoi usare Alla fine lo usi per disperazione Signori Niente Non c'è ferro Né carbone Né niente Non è vero Ecco il ferro Oh Togliti un attimo roba che non serve Quanto me ne hai dato? Due Vabbè vediamo alla fine quanto ce ne dà Vediamo se fortuna Diciannove Ebbè Voglio dire Non male Se me ne è un altro pochino Giusto per darmi un po' di soddisfazione No eh Noi ci faremo una farba di ferro Non volevo farla all'inizio Devo essere sincero Cioè l'avrei fatta più avanti Però No di sto passo penso che la priorità nei prossimi episodi Ce l'avrà la farm di ferro E gli scambi con i villager Assolutamente Perché altrimenti qua Voglio dire moriamo male ragazzi Non è gestibile una cosa del genere Voi vi rendete conto di quanti cazzola di blocchi sto scavando e non trovo niente Vabbè Torniamo indietro Attenzione Mentre stavo tornando indietro ho sentito Il tipico verso di uno zombie Da qualche parte qua Allora da qualche parte qui Ci sono dei mob Ora Voglio capire se era uno zombie in una caverna Sperso Oppure se c'è qualcosa di più serio Questa è l'altra cosa che avevo scavato Non ci interessa Non è giù Sarà su Eh li sento chiaramente Delle torce ce l'ho No Giustamente Non è esattamente la configurazione ideale per andare a caccia di caverne Mostri e altra roba C'è l'inventario pienissimo di roba Si sepplin Che cacchio ci devo fa Da dove arriva Del ferro Vedi Vedi Cercando dei mostri Però Spunta il ferro L'avevo detto che questa era una puntata scialla ragazzi Quindi non mi dite nulla Ma qua si scialla proprio tanto Dove stanno sti mob? Perché non li sento più Non è di qua Oh Non è manco di qua Li sento Chiaramente Però c'è del ferro E anche qua su c'è del ferro Ma secondo me l'altezza non è 16 È a sto punto Mi sa proprio da no Però li sento tantissimo i mob Oh Ho fatto già uno stack di ferro No vabbè ma che figata Signori sto cercando di capire Da dove arrivano questi suoni di mob Magari è uno zombie pirla Che sta in un buchetto Sta solamente lui E io qua sto sfascia tutto Però abbiamo tolto il ferro Quindi che ce frega Va bene così E anche il carbone Oh Meno male A me non è stata vana sta ricerca Mo il carbone ragazzo Mo il carbone ti devi proprio Far valere eh Mi raccomando Ce ne avevamo tre Quindi Sfotela tutta la potenza E anche il ferro Che bello Sfotela tutta la potenza Del piccone fortuna 3 Dammi tutto quello che ci sta qua da prendere Vediamo un po' 33 Non è male 36 Meglio Però non sento più Lo zombie Decisamente non lo sento Proviamo a scavare di qua Magari una torcetta ogni tanto Giusto per farvi vedere Cosa sta succedendo Non è furbo scavarsi In testa Devo essere sincero Perché Magari c'è un creeper Ti casca addosso Ed è la fine L'ho sentito Lo zombie L'avete sentito pure voi Suppongo Però A conti fatti Qua non c'è sta Secondo me erano zombie Isolato In tutto ciò Da dove vengo io Mi sono perso tantissimo Facendo sti buchi Ho fatto troppi buchi Decisamente Ok mi sono perso No forse mi sono ritrovato Ma no Ho fatto un devasto qua sotto Ma non mi ero minimamente Reso conto Di aver fatto tutto sto casino E mo io da dove arrivo Forse di là Vabbè Proviamo a tornare in base Magari Scavando qua su così Io qua sento chiaramente Dell'acqua Cioè è proprio Chiaro La situazione Ferro Ferro signori Ferro Due pezzetti di ferro Malati proprio Allora qui c'è acqua Forse starà sotto l'acqua Probabilmente si Lapislazzo Di pure ci riprendiamo Mo andiamo a fare Quello che dobbiamo fare Non vi preoccupate Non mi intrattengo Più di tanto Ok siamo tornati qui Vediamo se questo ha cotto qualcosa Nel mentre Eh mi sa che era uscito fuori dal chunk Sicuramente Allora come si facevano Sti cosi Non mi ricordo Possiamo un po' di cobblestone Che ne ho presa fin troppa Ma io direi di posare un attimo Tutto quello che abbiamo nell'inventario Ok un po' di robetta L'abbiamo posata Andiamo a smeltare Giustamente il ferro Smeltiamo pure questo Smeltiamo pure questo Dai buttiamoci pure un po' di carbonella Qua dentro Qua iniziamo a prendere I nostri blocchi di stone Tutti direi Ok vediamo con la stone Che cosa riesco a fare Eccoli qua Quelli che mi interessano a me Allora intanto Io farei un po' Di slab Sicuramente Per fare questa zona qui Inizialmente Ok Quindi Mo leviamo tutta sta roba E sostituiamo Con dei slab Di Come si chiamano sti cosi Di stone brick Porca zozza Ti giuro veramente Pare che ho preso un'amnesia Ma da quando è che non giocavo a minecraft Non mi ricordo un cazzo Comunque A parte queste considerazioni Molto personali Io direi che qua Possiamo sfasciare un po' tutto Rimettendo poi Ovviamente Le torce Prima di morire malissimo Però è bellissimo Il piccone Raga Mamma mia Effettivamente Siamo stati fortunati A fare il piccone Con fortuna Voglio dire Allora Mettiamo sta robetta qua Iniziamo A piazzare In modo sbagliato Giustamente Perché Vaffanculo Iniziamo a mettere Sti cosi Cosi Beh La parte in cui li metto Tutte le parti Magari ve la salto Sono clemente Non sarebbe proprio Divertentissimo Vedermi piazzare blocchi A meno che Non vi intrattengo Con qualche chiacchiera Solo che al momento Non lo so Ma non mi sento Molto chiacchierecce In questo momento Perché sto pensando Non è vero Che non mi sento Chiacchierecce Che sto pensando A come fare Qua intorno E soprattutto Se poi Questi stone brick Che sto usando Sti slab brick Come cazzo La si chiamano Un'altra volta Questi stone brick slab Se poi Effettivamente È il caso Di lasciarli O cambiarli Non lo so Perché L'inculine Non si fa mai così Che poi Porca zozza Però sto piccone È bellissimo Ma è potentissimo Cioè qua come ti sbagli È un Eh che palle Dicevo come ti sbagli È un casino qua È un attimo Che sfasci tutto Tipo qua Devo stare attento Non vorrei Sfasciarmi Il resto Che sta qua sotto Ok Certo Pensandoci bene Un silk touch Non ci avrebbe fatto male Perché tutti i blocchi Che sto rompendo Io poi li devo cuocere Per farmi la stone Invece con bel silk touch Io ce l'ho già La stone belle fatta Eh sarebbe stata Proprio una cosa buona Eh però Purtroppo Non c'è uscito Meglio quello che abbiamo Chi se ne frega del silk touch Abbiamo fortuna Va bene così Facciamoci degli altri Slab di stone bricks Eccoli qua Allora adesso Dobbiamo iniziare a dare un po' La forma Senza buttare il piccone Ovviamente Possibilmente Una forma Tondeggiante Fatemi un attimino Vedere Allora questo va sfasciato Assolutamente Ma in teoria Io sfascerei pure un po' Questo Qua così Quindi mi allargherai Da questa parte Più o meno così Qua andrei avanti Un po' così A Diagonale Ok Quindi abbiamo detto Fatemi un attimo Vedere Un pochino dall'alto Qualcosa che gira lì Non deve essere perfetta Deve essere una cosa abbastanza Quasi randomica Non proprio randomica Randomica Però una cosa che ci assomigli Ok Potrebbe essere Giusto così Più o meno Sì dai Secondo me Si potrebbe fare Ecco Magari qua Farei così Ok Devo vedere dall'alto Per capire Allora Forse così È anche un po' Troppo grande È una cosa Un po' più piccolina Forse così Sarebbe carino Sì Sì Decisamente Devo fare Una cosa Cerchio qua Che chiude In modo che Sembra proprio Una piazzetta Il problema È che farla È grande Dall'alto Dall'alto è un conto Ma là Vedo un cacchio Ci proviamo Stavolta Possibilmente senza morire Grazie Ci è mancato poco Anche stavolta Devo dirvi la verità Ci è mancato poco Allora Facciamoci Un altro pochettino Di slab E con questi Andiamo a definire Il contorno Vediamo un po' Allora abbiamo detto Un altro pochettino Quindi Io farei tipo Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Uno Due Uno Due Tre Quattro Così Poi vediamo se dall'alto C'è una forma Pseudo circolare Illissoidale Ma la cazzo La sto dicendo Stasera Ok Forse ci possiamo Fare un'idea Pure da qua Senza bisogno Di salire Lassù Allora Forse Potrebbe essere Giusto Così Sì Proviamo un altro Pochino Qua io ricomincerei Con due Con tre Ok C'è una faccia Di una piazzetta Più o meno Sì Poi li saliamo Di livello E quindi La rimettiamo Di nuovo La stone Ok Poi qua Dobbiamo Chiudere Quindi rialzare In modo che La piazzetta C'ha un senso Così ha un senso Sì ha un senso Più o meno Intanto penso Che possiamo Far partire Sta cosa Allora ragazzi Io sto Smeltando un po' Di roba E nel mentre È passato un giorno Non in minecraft È passato un giorno Nella vita reale Perché avevo interrotto La registrazione E siamo Nello snapshot 24v10a Però stavolta Ho sbirciato E hanno aggiunto Dei cani nuovi Non so se Già li avevano aggiunti Ma ci stanno Nuovi cani E quindi Io andrei quasi A cercare un cane Adesso Però Porca zozza C'è Ho già registrato Un sacco di roba Per questo episodio Quindi almeno Diamo una parvenza Di fine a questa piazza Allora E una cosa Che dobbiamo fare Sicuramente E mo' vi faccio vedere subito Perché adesso Mi sto triggerando Che cosa è successo Al mio mouse Perché sta impazzendo Questo rincoglionito Non lo so Succedono cose Allora Vediamo un attimo Le cose da fare Con calma Senza aprire E che cazzo Aspettate C'ho il mouse impazzito Allora Le farm automatiche Va bene Del ventriccio Delle caverne Slab di bambù Dobbiamo provare Assolutamente Libro coordinato Tesorio Ok La fama di schede Ce l'abbiamo I nomi E i luoghi Questa è una cosa Che faremo Il libro sulle idee Del leggio Ecco Questa è una cosa Che dobbiamo fare Forse la facciamo Adesso il leggio Allora Il piccone con fortuna L'abbiamo fatto Quindi grazie Bob che ce l'hai ricordato Lo possiamo cancellare L'ametista Blocco Questo qua Era Che ho fatto Sono andato avanti Con la pagina L'ametista Blocco Questo era Per l'enchanting Scriviamo così Che ce li ricordiamo Allora Queste sono le cose Da fare Mo Adesso Scherzi a parte Le mie idee sono Allora Villager Scambi Ok Perché qua Si sente puzza Di Demanding Poi Un'altra cosa Dobbiamo fare Farm Ferro Assolutamente Un'altra cosa Che dobbiamo fare Una farm Per combustibile Sicuramente Ci vuole Quindi farm Per combustibile Intende una farm Di O di kelp O di bambù La colleghiamo Direttamente A una cesta Che va Nella fornace Automatico C'è tutta una roba Psichedelica Fantastica E Dovevo fare Un'altra cosa Ma non mi ricordo Vabbè Per il momento Questo Ora Io sto Libricino Io ragazzi Ho problemi Con sto mouse Non vorrei dirlo Però Mi sembra Che giri Troppo veloce O è windows Che si sta Rincoglionendo O sono io Molto più probabilmente Per carità Allora Voglio fare Un leggio Il leggio Si chiama Lectern In teoria Forse Lect Eccolo qua Ci sta Si fa così E' abbastanza Semplice Facciamo Una book shield Coso Per fare la book shield Mi serve La pelle Ce lo Si 1 2 3 Ok Ah ho capito Che cos'è Non è il mio mouse Che si è rincoglionito La vedete Sta palletta Che si gira Non so se la vedete E' windows Che sta finendo Gli aggiornamenti Del cacchio Porca Ma allora Per dire questa cosa Ci dobbiamo guardare Nelle palle degli occhi Chi di voi Ha aggiornato Windows 11 Io ho windows 11 Ormai da un fottio Da quando è uscito Stavo nella pre pre Cacchimbroggio Perché windows Ogni santissimo giorno Deve fare dei cazzo Di aggiornamenti In background Cioè nelle impostazioni Ci sta proprio Un'opzione Che tu dici Fai aggiornamenti Che non devono rompere Le balle A quello che sto facendo Quindi in teoria Il sistema operativo Dovrebbe scegliere In modo indipendente Quando fare gli aggiornamenti Quindi quando tu Non stai lavorando Io in questo momento Sto registrando Quello che sto facendo Quindi ci sta Un continuo accesso Al disco rigido Che sta caricando Cazzi Sto giocando a minecraft Che per quanto sia Un gioco vecchio Di 10 anni E' un mattone A livello di pesantezza Questo mette in crisi Pure le ultime rtx Se lo spari a palla Per quale cazzo Ti motivo Windows In questo momento Devi farmi gli aggiornamenti Cioè In quale universo Vedi che non sto facendo Un cacchio Scusate Ma questo è uno sfogo Cioè Non potevo Allora Controllo un attimo Sti aggiornamenti Che sta facendo E infatti Il coglionazzo Stava facendo gli aggiornamenti Porca zozza Allora Stavamo dicendo Dobbiamo fare un lectern Quindi Prendiamoci tre pelli E ce le siamo prese Mi serve la carta Che dovrei avercela qua Io cambierò sto mouse Lo so È nuovo È bellissimo Ma io non mi trovo Ora In qualche modo Devo fare Prendiamo della carta 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ok E facciamoci Sti libri Quindi vai così Vai così Vabbè Lo devo mettere per forza così Dammi tre libri Perfetto Facciamoci sta libreria Ce l'ho del legno Sì Quindi la libreria Se fa così Così E così Perfetto E mo ci dobbiamo fare Non mi ricordo più Eh raga È così Non mi ricordo Ah ecco qua Degli slab 4 slab sminchi Va benissimo Facciamoci 4 slab sminchi Così 6 vanno più che bene E mo ci possiamo fare Signori Attenzione Il nostro leggio O lectern Bellissimo Questo leggio Momentaneamente Io lo volevo piazzare Proprio al centro Di questa piazzetta Più o meno al centro Una cosa del genere Tipo qua Poi ci troviamo un posto E ci mettiamo Finalmente Oh Vedi Vedi che tutto cambia C'abbiamo il leggio qua Che possiamo andare a leggere Le idee È tutto molto Molto figo Ci sta Secondo me ci sta Perfetto Allora Il leggio l'abbiamo messo Questi qua In teoria Mi hanno fatto un po' Di sti blocchi Tutto questo Ovviamente non mi ricordo più Che cosa cazzarola Stiamo facendo Perché ho questo Cosa in mano Non lo so Poi Qualc'è il carbone Non c'era Qua non c'era Va bene Qua non devo fare nulla Io devo cambiare mouse Ormai Ho deciso Devo cambiare questo Cazzo di mouse Allora Dobbiamo Rendere un attimino Più omogenea La situazione qua Quindi Inizierei col fare Un po' Di Stone Come cazzarola si chiamano Stone stairs Tipo Così Va bene 36 Penso che basti No? E li iniziamo a piazzare Qua intorno Al posto di Sta sminchiatina Qua che non ce ne frega Assolutamente nulla Vi ricordo Tutto quello che stiamo facendo adesso È proprio Momentaneo Cioè Non è detto che sarà così La stessa cosa Io la farei Qua Così Perché poi Voglio fare in modo Che questa sia una piazzetta Non chiusa Però Isolata Dal resto del mondo Dimmi che mi bastano Sti com Basteranno mai Ma mai Ma mai Ma proprio mai Vabbè Non è un problema Veramente è un problema Perché non è che posso Mettermi a sbucciacchi Altri Altri blocchi Niente Stasera col mouse Non mi trovo Ragazzi Non mi dite niente Però L'ho anche pagato Non è che L'ho pagato Sì Grazie cacchio L'ho pagato Nel senso L'ho pagato un bel po' Questo mouse Di merda Perché era figo Era bello Era tutto Psichedelico Però Niente Non mi ce trovo Che vedevo di Prendiamoci pure questo qui Facciamo così Me ne manca uno Ti pareva Cioè uno solo Allora Intanto Rendiamoci conto Potrebbe avere un senso Tutto ciò Potrebbe avere un senso Facciamo un altro gradino Al volo Gentilmente Grazie Sì Quattro vanno più che bene Ne mettiamo uno Qui Così E poi Qua Io devo mettere Purtroppo Questi blocchi Che dovrebbero simulare Il continuo Della Della montagna Tanto Io lo so Che questa roba Poi la cambieremo Integralmente Ma tutta La cambieremo È semplicemente Per iniziare a dargli Una forma E capire poi Come vogliamo Continua Sta costruzione Perché Al momento Non l'ho ancora capito Manco io Sono sincero Però diciamo Che questo Poi si ricollega All'altra parte Della montagna Quindi tu sali E scendi Ora Facciamoci la nostra Solita guardata Dall'alto Ma non da lì Perché ci muoio E lo so Che se ci salgo Adesso ci muoio Volevo fare una guardata Da questo punto Forse da questo punto qua Allora Non è brutta Non è nemmeno Sta grande opera d'arte Diciamoci la vediamo Eh ho fatto chissà che cosa Però Però C'ha un suo Inizia ad avere un suo perché Probabilmente Ad un certo punto Cambieremo tutto quello che vediamo Quindi magari lo faccio in legno O Perché no Faccio tutto verde Faccio tutta erba Una cosa del genere Beh non sarebbe brutta Però come cosa Questa cosa non sarebbe Per niente brutta Mi dovete aiutare voi Nei commenti E se facessi tutto verde Cioè con i blocchi d'erba Tipo molto naturale Potrebbe essere Per il momento lo lasciamo così Perché figurati se Movi metto a sposta tutto Un'altra volta Il leggio magari Non è proprio centrato Qua diciamoci la verità Eh Aspetta Forse me lo devo prima prendere Take book Grazie Eh non mi ricordo Magari mi si sfascia il libro Che ne sai Cosa ho che mi sta occupando Dello spazio inutile Tutto praticamente Allora Forse che il leggio lo Allora Per il momento lo devo piazzare più qua Perché sta proprio in mezzo le palle Diciamoci la verità Lì Va bene centrato Però devo fare una struttura Per metterlo al centro Quindi Quindi io direi che qua ci sta Ora Che cosa dobbiamo fare Io non so nemmeno Da quanto tempo stiamo registrando Perché il video l'ho iniziato ieri Ma lo sto a finire oggi Quindi è tutto un grandissimo punto interrogativo Però Una cosa che potremmo provare a fare È andare a cercare dei cani Lo so che non c'entra nulla Con quello che abbiamo fatto finora Però Io visto che siamo nello snapshot nuovo E sono estremamente curioso di questa cosa Una sbirciatina Come sono i cani nuovi Me la farei pure Tanto le ossa dovrei averle Ce l'ho nella farm sicuramente Qua togliamoci tutti sti blocchi Che non ce ne frega assolutamente nulla Nell'universo Poi li sistemo meglio Perché è un incudine? Ah sì perché si era sfasciata Giusto? Cioè si era sfasciata L'avevo sfasciata Dove adesso ci ho messo Vabbè mettiti qua Da rompere le balle Allora torce le ho finite Ma le posso potenzialmente Rifare insomma Abbiamo un sacco di carbone Forse ce l'ho qua Sicuramente ne avevo preso tantissimo Invece non abbiamo carbone Vabbè me lo frego da una di queste Me lo frego da una di queste Un po' di qua Un po' di qua Così non si offende nessuno Ecco fatto Dai Ho fatto una stronzata Va bene Allora facciamoci delle torce Non tantissime Giusto per averle Così va più che bene L'acqua ce l'abbiamo Il cibo ce l'abbiamo Tu vai al 2 Sì in teoria non mi dovrebbe mancare nulla Forse potrei farmi una barchetta Per andare a cercare dei cani Forse sarebbe una buona idea Una barchetta già ce l'ho Ragazzi andiamo a trovare Sti cani Vediamo se riusciamo a trovare un cane Lo addomestichiamo e lo portiamo qua Però voglio un cane diverso Perché? Poi tra le altre cose Ho anche visto che ci stanno le armature Per i cani Cioè non ho approfondito Ho letto qualcosa che Armor Dog Wolf Mi ricordo E quindi suppongo ci siano le armature per i cani Che io Ancora non ho idea di come siano Quindi ci andiamo a prendere Delle ossa Dalla nostra bellissima E con bellissimo ovviamente Sto scherzando Farm di scheletri Ci prendiamo queste ossa E andiamo a caccia Di cani signori Attenzione Ok Un'altra cosa che dobbiamo fare Assolutamente La risalita Me l'ho scordato Perché io non mi sono rotto le palle Di salire con quel coso Dove sta il libro? Vieni qua libro Posso scriverlo mentre sta qua su? In teoria sì In pratica no È che sola però Scusami Perché non posso scriverlo Mentre sta sul leggio? Allora Vieni qua Facciamo Non so se già l'avevo scritto Ma penso di no Sistema di risalita con acqua Penso che si capisca Va bene Abbiamo scritto E quindi spero che questa sia una delle ultime volte che salgo da qua Mi farò un bel sistema Che mi fa salire e scendere con molta più calma E soprattutto senza rischiare la vita Ridendo e scherzando Ci sono morto almeno due volte qua Se non tre addirittura Vabbè che ho perso il conto delle volte che sono morto in questa serie Allora Dobbiamo andare a cercare dei lupi Io mi porterei anche il mio fidato amico cavallo Per il momento senza nome Andiamo E andrei Vediamo dove possiamo andare Di qua Signori Facciamo una ricerca veloce di un lupo Un cane Qualcosa a quattro zampe E vediamo cosa riusciamo a trovare Sono curioso di vedere questi cani nuovi Un'altra cosa che devo fare assolutamente È una mappa Visto che abbiamo il banco del cartografo In teoria mi pare di averlo Possiamo fare una bella mappa gigante della zona In modo che riusciamo pure a capire che cosa abbiamo qua intorno Qua ci stanno le mucche Mucche da tutte le parti Allora I cani Normalmente erano in un bioma particolare Però suppongo Visto che ho visto diversi tipi di cani In una foto Online Suppongo che adesso lo spawn dei cani L'abbiano ampliato Quindi c'è il cane della foresta Il cane del deserto Suppongo Sono tutte supposizioni Perché non ho ben che minima idea di questa cosa Quindi credo che dove andiamo Andiamo In linea del tutto teorica Qualche cagnetto lo dovremmo trovare Io intanto sto tornando indietro E me ne sono reso conto Però purtroppo Là c'è dell'acqua E che devo fare Sto a cavallo Non posso sicuramente mettermi a Beh oddio me lo potrei trascinare con Con i lead Si chiamano lead sti cosi? Con i Come cacchio si dice? Con i guinzagli Però non ci ho pensato Cioè ci ho pensato Ma ci ho pensato adesso Allora intanto avevo appena scambiato una pecora per un cane Iniziamo benissimo direi Ok Vediamo se qua su Magari in quei In quegli alberi In quella boscaglia Troviamo un lupacchiotto pronto Per essere addomesticato Speriamo di non trovare il classico Però perché sennò ci rimango malissimo Cioè io voglio trovare un lupo strano Nuovo Allora qua Non c'è nulla Qua c'è un portale del ne Scusa aspetta Che fai non lo vai a vedere che cos'è questo Che c'è stato di bello Allora Course of Vanishing Fortuna 3 Interessante Questo ce lo prendi Vabbè mi prendo tutto Che me frega Questa la lasciamo là Che mi fa schifo C'è altra Mi sono cagato addosso C'è altra roba? No Riprendiamoci il cavalluzzo Magari mettiamo la spada in mano Perché sto andando in giro con una torcia E inizia anche a piovere Non è una buona cosa Decisamente no Potrei andare di qua In questa direzione Sono fiducioso Non è vero lo sto dicendo solamente per non portarmi sfigata solo Però sono molto fiducioso Che da questa parte noi troveremo un cane Un bellissimo cane lupo Lupo cane Ho visto Porca zozza Ok Sono molto fiducioso Che da questa parte Noi ci rimaniamo secchi Vabbè abbiamo capito che non possiamo soffermarci a guardare cose Giustamente Se spunta la pioggia Mi spuntano pure i mob Questa è proprio sfiga Io poi qua rimango bloccato nelle chiome Nelle folti chiome degli alberi Vabbè pure il temporale Benissimo Proprio la giornata perfetta per andare a morire male col cavallo Poi sto cavallo Ma non so se prima era così Ma a me sembra che c'è una testa enorme Io non vedo una pippa con questo coso quando guido Quando guido Quando cavalco Scusatemi Sono piccoli lapsus Qua non vedo cani Là c'è dell'acqua Se ci andiamo dentro probabilmente lui affoga Ho sentito qualcuno frecciarmi No forse mi sono sbagliato Non mi sono sbagliato Era proprio qualcuno che mi stava frecciando Allora cavallino Niente Come al solito devi E porca zozza E c'è un capoccione esageratamente gigante Per quello che non passiamo da nessuna parte Sto tornando indietro Me ne rendo conto Dai Salta Facci vedere la potenza disumana di questo cavallo bio Mamma mia Non pensavo mai che ce l'avesse fatta Ok Dove cazzarola sto andando Forse E sottolineo forse L'idea di andare a cercare un cane così distinto Non è stata proprio l'idea del secolo Veramente era un'idea buona finché non iniziava a piove Cavallino Ma stai andando più piano del solito? Cioè la pioggia ti spaventa? Sei inquietato? Ho appena sentito un creeper No un creeper Come si chiama quel tipo? Un enderman Che si teletrasportava Qua stanno schede da tutte le parti Va benissimo Questo ci secca male Non è vero E qui c'è un bioma Di cui una volta sapevo perfettamente il nome Ma che adesso non lo so più Però ci sono Delle acace Beh Acace mi piace E non piove più Eh già questa cosa è una cosa molto buona Io ovviamente Eh niente Vaffanculo Dicevo era una cosa molto buona Io ovviamente non ho portato un letto con me Perché sono una persona estremamente previdente Quindi non l'ho portato Non vedo cani Questa cosa è molto inquietante Sono sincero Eppure io mi ricordo di aver incontrato dei cani lupi Questo è un armadillo Me lo ricordo Questo è sempre una pecora Perché scambio le pecore per dei lupi Dei cani Di quello che cacchio su questo Che cos'è Ok Non lo so che cosa sto vedendo Sto vedendo cose strane Non voglio soffermarmi su questi dettagli tecnici Non vi Non vi assillerò Però Mi piacerebbe Trova un cagnetto Ok Questi sono armadilli Spero e penso Qua stanno pecore Allora pecore Armadilli e maiali Vanno d'accordo Perché li trovo sempre tutti quanti molto vicini E ritorna la pioggia Giustamente Tempo proprio orrido Questo qua Non ci passa da qua Voi vi rendete conto Che se mi butto Questo ci rimane secco Devo passare dall'altra parte Aspettate un attimo Ce la farà? Sì che ce la fai Dai Hai salito di peggio Uh Un altro portale bellissimo Io sto cercando di tenere traccia Della mia base Che dovrebbe essere di là Vabbè che tanto ho le coordinate Però Non volevo allontanarmi così tanto Qua Niente Finisce così Quindi devo proseguire Da questo Da questa parte Fai un salto incredibilmente potente Ce la puoi fare Ce la puoi fare Mamma mia Mamma mia Di qua Dai dai Che qua puoi mettere i piedi per te Maledetto schifo Buttati qua su Eh si Buttati qua su Ciao Ciao Maone Ok Primo cavallo acquatico della storia Eh sali porco Lo schifo Allora io sono quasi tentato di mollarti qua E Chi si è visto si è visto amico mio Cioè devi salire Allora facciamo così Vieni con me dai Che hai già rotto tre quarti di palle Ce l'ho ancora attaccato Va benissimo Benissimo Mo ci manca solamente il creeper che mi viene a salutare Appena arrivo qua su E stiamo a posto Potresti salire Che dici ce la fai? Non è complicato Voglio dire Dai E vieni Rompicoglioni Allora Ritorniamo un attimo Eh porco lo schifo Aspetta che mi sono perso la lead Ce l'ho? No l'ho persa Dove sta? Scusami eh amico E tu veramente hai rotto Tre quarti di casa Eh scusatemi Non volevo essere volgare Però Questo mangia Capito? Cioè Stiamo di notte Sperzi nel nulla Con gente che ci massacra di mazzate E questo mangia Allora sei un po' pirla Diciamocela questa cosa Per chi non l'avesse capito Allora Non vedo lupi E non vi nascondo che La mia soglia di sopportazione Si sta esaurendo molto rapidamente Che per dirla in altri termini Mi sto rompendo le palle Ma tanto Non poco Non vedo lupi Da nessuna parte Io farò un ultimo tentativo E poi ce ne torniamo Tu le gambe ti devi spezzare Così ti impari a rimanere fermo Come un deficiente Ok Approfettiamo di questa strisciolino Di terra Molto tranquillo Con ventordici creeper Eh vabbè Ok Poi non lo so Che altro volete da me Qua c'è una pozza di lava Ok La pozza di lava L'abbiamo superata Niente raga Eh Ma lupi zero Qualche cosa Una strega Interessante Interessante prospettiva Proprio Quindi Meglio andare via Altri cavalli Allora Vedi amico mio Vedi Cerca di comportarti bene Perché io È un attimo Che ti cambio Cioè proprio due secondi Il tempo di Di una seduta Adosso uno di quelli E tac Arrivederci Grazie Chi si è visto Si è visto È stato un piacere Ma io Anche no È chiaro Quello che dico No Mi sembra molto Chiaro Intanto mi sono allontanato Tantissimo dalla base Non era quello che volevo fare È notte E mi sto rompendo le palle Tantissimo E non trovo un cacchio di cane Lupo Gatto Quello che sia Là c'è un creeper Maledetto Allora qua c'è una montagna Molto caruccia 27 milioni di mucche Da tutte le parti Che è una cosa buona Del ferro Che è anche una cosa Molto buona E anche del carbone Non mi metterò A prendere questi miner Non è un ferro Lo sapete tutti Che lo farò Perché Perché ho bisogno del carbone Lo trovo Che fai Non lo prendi Ok Prendiamo molto velocemente Del carbone L'abbiamo preso Sì Riprendiamo il nostro cavallo Che realmente se ne sta Dove cazzarola vai Deficiente Allora Il ferro non lo prenderò Questo no Perché però Il carbone l'ho visto Aspetta un attimo Fermati Togliti Ma ho appena buttato il cavallo giù Perché ha dato una botta Ok Prendiamoci quest'altro po' di carbone Scusatemi Queste piccole interruzioni di marcia Ma Necessito Di Di carbone Lo sapete anche voi Dove cazzarola L'hanno buttato il mio cavallo E' morto il cavallo Ok Ah sta lì su Va bene Va bene Lasciamolo un attimino lassù A giocare Sto tornando Aspetta un attimo amico mio Abbiamo capito che il carbone Si trova sulle montagne Questa pioggia è fastidiosa Da 1 a 10 15 Ok Poi possiamo andare Andiamo dai Salta Galoppa Galoppa Salta Allora qua c'è una giungla È una giungla Ho visto male Moriremo Cioè Io non lo volevo dire Per scaramanzia Ma è chiaro Che stiamo andando incontro A una morte orribile No Che cosa c'è Un villaggio Signore grazie Un villaggio A me servono dei villager Tantissimo E questo è un villaggio Molto bello Mi sembra anche Ok Ce la puoi fare Dai non fa Non fa male Tutta l'impressione Ok Fa un po' male Hai ragione Ora Io ti mollerei Due secondi qua Amico mio Perché Dire che mi stai rompendo le palle Poco Dove c'è un Un pezzo di Eccola qua La straccionata Vieni qua Ma non mangiare in continuazione In gordo maledetto Mettiti qua nel rompermi coglioni Qua sicuramente un letto lo troviamo Amico L'ho fuori dalle balle Eh scusatemi Ma mi sono rotto le scatole D'esta pioggia Ok E in questo momento Io ho appena perso Lo spawn Della Uuu Patate Lasciavamo già le patate Ma mi pare proprio di sì Mi pare proprio di sì Dicevo in questo momento Io ho appena perso Lo spawn Nella mia base Ok Però abbiamo le coordinate Quindi Fotte seca fondamentalmente Allora Esploriamo un attimino Questo villaggio Che poi verremo a depredare tantissimo Eh vedi qua Si fanno le armature fighe Poi lo Lo vedremo anche questo Il bambù Io già ce l'ho Quindi non mi interessa Vediamo qua Che cosa c'è di bello Un pezzo di pane Sono ricchi da ste parti Proprio Mamma mia Questo Non sto prendendo roba Perché poi lo deprediamo Con calma Volevo solamente fare un giro Molto rapido È però un bel villaggetto Guarda come sale Come sale Si arrampica Carino Carino Bello Posso vedere un lupo nuovo Per favore Un cane Qualcosa che ci assomigli No Va bene Questo è un nano villager Qua che cosa c'è Ma cosa c'è qua sotto No niente Un libro Eh ma no Il libro me lo prendo Scusate Stiamo scherzando Degli smeraldi Eh ma vabbè Il pane pure me lo prendo Perché a sto punto Me prendo pure le patate Già ce le ho Degli smeraldi Attenzione signori Qua la faccenda Si fa abbastanza intrigante Nonché interessante Oserei dire Vabbè Questi alberi di giungla Quindi c'è style Come si chiama Il cacao Qualcuno poi mi spiegherà Perché è successo ciò Ma non adesso Vediamo qua dentro Intanto ho visto Un bellissimo gatto Guarda quanto è caruccio Quei gatto che corre felice Qua dentro Già ce l'ho stato Della carta Mi servirebbe un cacchio La carta Però me la prendo Ma una volta Non c'erano i posti Con tutti i libri Qua già ce l'ho stato Vero si Il libraio Che cavolo c'era La biblioteca Qualcosa Insomma qualcosa Con dei libri Una volta c'era Non c'è più Eh signori Io non Non sto trovando Il cane che stavo cercando Cioè l'unico motivo Per cui ho messo il culo Fuori dalla mia base È stato quello Di andare a prendere Un cane nuovo Ma non lo sto Non lo sto vedendo Tu che cosa fai Qua già ci sono stato Io il mio senso Dell'orientamento Fantastico Mi sono già perso Cioè Sto villaggio C'ha quattro case in croce E io mi sto perdendo Rendiamoci conto Di tutto ciò Forse potrei salire Quassù E forse potrei Anche mangiare Allora questa casetta Qua sperza Solitaria Mi ispira tantissimo E infatti Mi ispira veramente Tanto C'è un cane Lassù ci sono altre case Potrei provare A visitarle velocemente Tanto il cavallo sta giù Ce la possiamo fare Non ce la possiamo fare Proviamo a usare Dei blocchi Tanto per Dammi un attimo Sto blocco Grazie ragazzo Sei molto genio No più su La dovevano mettere Sto casa maledetta Saliamo un attimino Più su Allora Sto pensando L'idea di mettere Tutta terra Sotto la caverna La grotta Non mi dispiace Perché mi ero dimenticato Che c'è questo Il sentiero Che è fichissimo Come blocco Secondo me Signori Signori Secondo me Potremmo Adottare questo stile Per l'interno Della nostra grotta Quindi renderlo Molto verde Fondamentalmente Renderlo a modo di villaggio Non sarebbe una brutta idea Non sarebbe assolutamente Una brutta idea Allora A sto punto Vabbè Il villaggio L'abbiamo visto un po' Le gambe Ce le siamo spezzate un po' Io mi inoltrerei Qua dentro In cerca di lupi Se li troviamo bene Se ne troviamo Niente ciccia Vorrà dire Che poi Piano piano A caso Prima o poi Il beccheremo Esplorando in giro Qua c'è una grotta E non mi ci devo infilare Non devo farmi cogliere Da queste voglie strane Qua però Che fai Questo non te lo prendi Vabbè Ma poi ci sarà tempo Per prendere Gli alberi della giungla Forse Un sapling Per esempio Ma io ho preso Una pala con fortuna Mo la butto lì Ma secondo voi Sta pala con fortuna Funziona pure qua? Cioè Se invece di uscirne Uno di sapling Me ne da Che ne so Cinque Sei Ovviamente Dovrebbe uscire Un sapling Per fare questo calcolo Intanto ce ne abbiamo due Che voglio dire Non è che mi lamento Ne vorrei almeno quattro Se fosse possibile Ma veramente anche di più Così io me li porto in base E me li faccio là Questi pure mi servono Questi però Mi sa che si prendevano con Questi si prendono con le cesoie Si è rotta la pala Ammazza che pala Porca zio Certo che l'oro È il materiale fantastico Materiale per eccellenza Ok Mi è uscito un altro sapling Attenzione Allora il mio obiettivo È di prenderne otto Di sapling Otto sapling della giungla E mi posso ritenere Molto soddisfatto Perché così Me li posso far Ma in base Senza venirmi a sperdere Fino qua giù Che poi comunque Ci vedremo Perché al momento In teoria Dovrebbe essere Il villaggio più vicino Che abbiamo trovato In teoria Certo Portare i villager Da qua Alla mia base È un bagno di sangue E questo è inutile Che ve lo dico Perché lo sapete meglio di me E però Che dobbiamo Li posso legare Con il guinzaglio I villager Non mi ricordo mai Questa cosa Vabbè Intanto Niente Siamo rimasti a tre Fissi Con sti cosi Poi magari Questo qua Che cos'è Questo non è un jungle Qualcosa Infatti è un oak Ma porca Ma porca Sozza schifa Perché vado a fare Gli oak Allora signori Ne ho presi quattro E mi fermo anche Perché veramente Cioè le palle Stanno prendendo vita propria Non ce la faccio Non lo so Se hanno cambiato Il rate Dello spawn Di sta roba Ma non usciva nulla E quindi basta Vanno bene Ce ne faremo Bastare quattro Di sti cosi Tanto Voglio dire Vuoi che poi non riesco A farmarli A prendermene altri Impossibile Questi cosi qua Sono i meloni Ce li possiamo prendere Non mi servirebbero A nulla In teoria Però Ce li prendiamo Chi se ne frega Da qua Che cosa possiamo vedere Ok Là dietro C'è la mia base In linea teorica E facciamo l'ultimo Tentativo Per cercare Sti lupacchiotti Maledetti Che io lo so Che quelli Non ci stanno Nella giungla Cioè Molto probabilmente Io sto facendo Una cosa Che non avrebbe Nessunissimo senso Però Giustamente Che vuoi fa Perché ho un arco Fa pure schifo Quella è la casetta Dove stavamo prima Qua sto morendo malissimo Allora saliamo da qua Facciamo tutti Sti giri tecnici Un lupacchiotto Cioè non è che Chissà che cosa Sto cercando Sta facendo notte Attenzione Non è una cosa Ho sentito Ho sentito qualcosa Ho sentito Chiaramente qualcosa Mettiamoci le ossa In mano E magari Noi non li vediamo Ma loro ci vedono Quelli si avvicinano Se c'è le ossa Mi pare di sì O mi sto confondendo Con le mucche e il grano Non ne ho La benché minima idea Comunque Stiamo andando In una cacchio di giungla Di notte Non è per niente Una cosa saggia Da fare Ma mai nell'universo Si fa questa cosa Veramente nella giungla Uno non ci andrebbe Manco di giorno Perché voi dite Perché la giungla È pericolosa Io continuo a sentire Strani versi Ma so i pappagalli Che emitano i mob Io non li vedo Dicevo È pericolosa Di giorno E anche di notte Perché è molto fitta È molto verde Ed è molto creeperosa Cioè un creeper Là dentro Tu non lo vedi Non lo puoi vedere Capite Perché Un altro hot post Dei pillager Spero che Non è quello Della mia base No no Non è possibile Quindi dicevo È potenzialmente mortale La giungla Capite Qua c'è un po' di roba Non la prenderò adesso Perché no Mucche Da tutte le parti Qua c'è Stan sacco di roba Quello non è Quello della mia base No 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 Non c'entra proprio Un cacchio Con la mia base Niente signori Io salgo qua su Faccio l'ultimo sforzo Però Il lupo Non l'ho trovato E quindi ciccia Ci abbiamo provato Sicuramente Ci abbiamo provato Però Sto lupo Maledetto Non è uscito Però lì c'è un altro Bioma Potrei fare Vabbè Allora L'ultimo tentativo Ultimissimo Sto video Verrà lunghissimo Per fare Sto cosa Del lupo Maledetto Maledetto Lo snapshot Potevi uscire Un altro po' E' uscito Ma mi hai triggerato Tantissimo Io ci muoio Io non lo voglio di Però Madonna che bella Questa montagna Cazzarola No vabbè C'è pure il ghia Beh è bellissima Obiettivamente È bellissima Sta montagna Che gran figata Eh lo so amico mio Tu hai rotto già Tre quarti di palle Dove sei? Potrei stimolarci male Grazie È fantastica Questa montagna Non bellissima È proprio Bella Montagna Neve fresca Morte Per assideramento Un sacco De belle cose Ci stanno Sta montagna Sono già Sono già convinto Voglio di Vuoi che non abbiano messo Un lupacchiotto Delle nevi Quante possibilità ci sono Che io muoio Sulla montagna In teoria Un po' Però Dai Vuoi che becco la neve fresca Così Porca zozza E fammi almeno Fini di parlà E sti cacchi Dicevo Vuoi che becco la neve fresca Così Al primo colpo Sì L'ho beccata Esattamente Al primo colpo Allora Proviamo a fare questa scalata Sperando di Madonna santa Se ci muoio Come si sale Io sto Sto provando ragazzi Lo so Vi sta venendo mal di mare Pure a me Dai Non mi fa beccare la neve fresca Eee Creeper Sì Ciao Buongiorno Adesso sto arrivando Con calma E guardalo come mi segue Quel piccolo Bastardo schifoso verde Che se io finisco Nella neve fresca Arriva il creeper E mi fa esplode Muoio sul gelato In un esplosio Aspettate Questo è pericolosissimo Questo è pericolosissimo Questa è tutta neve fresca Non mi di così Perché Posso avere dei blocchi normali Ho visto qualcosa che svolazzava Oh Siamo su terreno normale Io quassù Ho visto qualcosa che svolazzava Che cazzo l'è? Ah Le capre Sì Le capre le conoscevo Buonasera signora capra Tutto a posto? Come stiamo? Come si sta quassù? Mi dica Come la si va la vita? Ha visto per caso Il lupacchiotto da queste parti? Vabbè no Questa cosa incazza Mi dà una botta E Comunque Cos'è? Che cazzo Alla sta succedendo? Porca zozza Maledetto Dicevo Non vedo lupacchiotti Non mi ricordo manco Però sono venuto In tutto sto casino Quindi niente ragazzoli Io suppongo proprio Che ci dobbiamo fermare qua Non so dove ci fermiamo Ora mi farò un piccolo buchetto Nel ghiaccio Cos'è sta roba? Gravel? Gravel da tutte le parti Ce l'ho qualcosa per chiudermi? Sì Facciamo così Dai Non è un problema Facciamo così Mettiamo una bella torcia Oh signori In questo bellissimo luogo Di desolazione Io mi fermo Il lupo Non l'abbiamo trovato Però abbiamo trovato un villaggio Abbiamo trovato una bellissima montagna Che mi ispira proprio tantissimo L'avessi trovato all'inizio Ci avrei fatto la base Quassù Quindi nel prossimo episodio Sicuramente Tornerò alla mia base Chiaramente Vedremo se è fattibile Iniziare a prenderci dei villager E portarli in base Non lo so Perché Il percorso non è stato proprio Tranquillissimo Magari ci possa arrivare Via Via barca Non lo so E continueremo a fare I nostri progetti Ma per questo episodio è tutto Io spero vi sia piaciuto Vi auguro una buona serata E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao ragazzi